Buongiorno gentile pubblico e buon venerdì 9 gennaio, bentornati negli studi di serie in festa. Siamo pronti per concludere questa settimana e lo facciamo come sempre a ritmo di musica. Iniziamo subito con Tognato Disco e brano Dai che balliamo e subito dopo Paolo Bertoli ci presenta il Bersagliere. Buon venerdì. Dai che balliamo insieme, yuppie, yuppie, sono pochi passi semplici, vedrai, lasciati andare, balla questo yuppie, così puoi divertirti come vuoi. C'è solo un modo per ballare, yuppie, vedrai, la vita ti sorriderà, non c'è di meglio che cantare, yuppie, e i tuoi problemi più non passerai. Dai che balliamo insieme, yuppie, yuppie, sono pochi passi semplici, vedrai, lasciati andare, balla questo yuppie, così puoi divertirti come vuoi. Grazie a tutti. C'è solo un modo per ballare, yuppie, vedrai la vita ti sorriderà, non c'è di meglio che cantare, yuppie, nei tuoi problemi più non passerai. Il bersagliere ha cento penne, ma l'Alpin ne ha una sola, un po' più lunga, un po' più mora, solo l'Alpin la può portar. Un po' più lunga, un po' più mora, solo l'Alpin la può portar. Quando viene la notte nera, e la valle si addormenta, in mezzo al freddo e alla tormenta, solo l'Alpin non può dormir. In mezzo al freddo e alla tormenta, solo l'Alpin non può dormir. Se l'Alpin da rupe cade, non piangete nei vostri cuori, Perché se cade, va in mezzo ai fiori, non gli importa di morir. Perché se cade, va in mezzo ai fiori, non gli importa di morir. Oì, cara mamma, i bal di Alpin van via. Oì, cara mamma, i bal di Alpin van via. I bal di Alpin van via, e non ritornan più. Oì, sì, sì, cara mamma, no, senza Alpini come parò. I bal di Alpin van via, e non ritornan più. Oì, sì, sì, cara mamma, no, senza Alpini come parò. Guarda la luna come la cammina, guarda la luna come la cammina. E la scavalca i monti come noi altri Alpin. Oì, sì, sì, cara mamma, no, senza Alpini come parò. Siete pronti per andare a ballare questo weekend? Se dovete ancora scegliere il vostro locale o la vostra festa, prendete appunti perché arrivano gli appuntamenti consigliati di Sera in Festa. Venerdì 9 gennaio si balla con Sergio Bevilacqua. Dancing Blue Moon lo trovate a Rivalta Veronese per info 3475833310. Venerdì 9 gennaio disco liscio. Sabato 10 si balla con Michele Bove. Domenica disco liscio a partire dalle 15.30. Discoteca Nevada, Terrosa di Ronca, Verona. Per info, dancingevada.it. Venerdì 9, Imi Lord, ingresso libero per tutti. Sabato 10 gennaio, Renza Glamour. Domenica 11, i falsi d'autore, a partire dalle 15.30. Il ristorante Pizzeria Il Cacciatore vi aspetta con specialità di mare, carne alla braccia, lessopera e ottime pizze. Il Teatro Pedemonte di San Pietro in Cariano riprende la programmazione dopo le festività. Vi aspetta il 10 gennaio con la compagnia Zero.it e la commedia, se devi dire una bugia, di La Grossa. Per info, teatrodipedemonte.it. La sala polivalente di Magna Cavallo Mantova vi aspetta sabato 10 gennaio, orchestra i Valentinos. Per info e prenotazioni, telefonare Aurepasti al numero 0386 55 448. Diciottesima Fiera del Radicchio di Verona a Rovereto di Guà. Venerdì 9, Danimo's Band. Sabato 10, 80 parti con Roberto Stoppa. Domenica 11, si balla con l'orchestra i Rodigini. Durante la manifestazione, spettacoli per bambini, cabaret, stand gastronomici, vendita Radicchio, ingresso libero. Dal 2 al 21 gennaio 2015, Piazzola sul Brentapadova, vi invita alla festa d'inverno, vicino Villa Contarini. Venerdì 9, Giancarlo e Santa Monica. Sabato 10, Checco e la B-Band. Domenica 11, Jonathan e Gianni Dego. Lunedì 12, Marco e il Clan. Martedì 13 gennaio, si balla con i Rodigini. Venerdì 16, Filadelfia. Sabato 17, Rita del Mare e orchestra. Domenica 18, Elisa Perin. Lunedì 19, Isabia. Martedì 20, orchestra Renzo Biondi. Martedì 21, gran finale con El Canfin, canti popolari. Stand gastronomici, padiglione riscaldato, ampio parcheggio. Volete mangiare una pizza speciale? Provate la Pizzeria Paradiso. Pizza al metro per tutti i gusti, vasta scelta di birre artigianali italiane ed infine ottimi dessert. Ricordiamo che alla Pizzeria Paradiso funziona un ottimo forno a legna da oltre 25 anni, tranne il lunedì che è il giorno di chiusura. Pizzeria Paradiso a Roncanova di Gazzo Veronese in via Roma. Nel cuore del Basso Veronese, l'azienda agricola Terre del Bosco coltiva, confeziona e vende riso di altissima qualità. Nel nuovo punto vendita, aperto tutti i giorni, Serinfesta è visibile sul canale 16 di Telearena, ma puoi seguirci anche tramite il nostro sito web. Scopri come! Dal motore di ricerca, cliccate www.carlettispettacoli.it Vi si aprirà direttamente la nostra pagina web. Dall'icona Serinfesta accederete alla pagina Facebook, dove troverete foto, curiosità, anteprime della nostra trasmissione. Dal sito telearena.it potrete seguirci in streaming, cliccando diretta. Se avete perso qualche puntata, la troverete sul nostro canale YouTube Carlettispettacoli, dove verranno caricate interamente. Infine, su contatti ed eventi potrete trovare i nostri recapiti e gli eventi settimanali aggiornati. Seguiteci! Entriamo in fascia pubblicitaria. Tra pochissimo saremo ancora qui, nell'angolo delle vostre richieste. A tra poco! E in questo venerdì facciamo tanti auguri a Sofia che oggi compie gli anni. gli dedichiamo il suo brano preferito dal titolo Malaghegna Salerosa. E subito dopo arriva l'orchestra di Nadia Nadì con il brano Acqua e Fuoco. E' ugualmente vero. E' ugualmente vero il suo brano. E' ugualmente vero? E' ugualmente vero… E' ugualmente vero, è visto con molti котором wordini da cui안� Gomezziare. Dì dalle truthi e ovvero quelle le ho vi da contattato è Grazie per la visione 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 Acqua e fuoco come amore Acqua e fuoco siamo noi Acqua e fuoco Acqua e fuoco siamo noi Grazie per la visione 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti